Con un parere legale che esclude soluzioni alternative e senza prospettive ulteriori, almeno a stretto giro, arriva la svolta per il servizio rifiuti in città. Ieri dagli uffici del municipio è partita una nota indirizzata alla SRR4 e la Impianti SRR, la società che gestisce il servizio in ausi in tutti i comuni dell'ambito. Anche l'amministrazione comunale ha deciso di affidarsi alla società della SRR4. Il sindaco Lucio Greco e l'assessore Cristian Malluzzo, dopo valutazioni e l'analisi anche dell'ultimo parere legale trasmesso dalla stessa SRR4, hanno deciso che l'unica soluzione percorribile è proprio quella del servizio in ausi. A breve si dovrebbe arrivare alla fase attuativa. L'amministrazione comunale pare abbia già dato mandato al dirigente del settore di prendere contatti con i vertici delle Impianti SRR. Il manager dell'Ainauso, l'ingegnere Giovanna Picone, anche durante fasi di forte tensione istituzionale, si è sempre detta disponibile al dialogo con la Giunta Greco. Lo scorso anno aveva attivato tutte le procedure, compresa quella per l'acquisto dei mezzi, poi stoppata perché il sindaco Lucio Greco aveva confermato la volontà di sondare la strada di una gara solo per il territorio di Gela. I vertici dell'Ainauso hanno già fatto partire il servizio a diretta gestione pubblica a Butera, Delia e Mazzarino. In settimana dovrebbero arrivare le firme sui contratti sia degli amministratori del comune di Riesi che di quelli di Sommatino. La prossima settimana invece è previsto l'ultimo passaggio con il comune di Niscemi. Gela per la Impianti SRR è sicuramente il territorio più vasto e complesso che si appresta a gestire, anche per il numero consistente di operai da impiegare. Sull'inquadramento contrattuale per mesi c'è stato un vibrante braccio di ferro con i sindacati. Allo Stato il servizio prosegue senza incidenti di percorso, almeno nei comuni dove è già stato attivato dal municipio, è partita la richiesta di avere un preciso cronoprogramma per l'avvio. Probabilmente entro i prossimi giorni sarà fornito dai tecnici della Impianti SRR. Un'esigenza resa ancora più impellente dall'imminente scadenza della proroga concessa a Tecra. A fine marzo si conclude avere tempi precisi consentirebbe al sindaco e all'assessore Malluzzo di programmare ed eventualmente disporre un'ulteriore proroga solo per poche settimane. L'ingegnere Picone a questo punto fornirà i riscontri richiesti dall'amministrazione comunale. Già negli scorsi mesi aveva predisposto un cronoprogramma di massima anche per Gela. La valutazione di soluzioni alternative da parte dell'amministrazione greco ha però congelato la procedura che ora sarà inevitabilmente accelerata. Gli uffici delle Impianti sembrano già pronti a definire i dettagli per poi formalizzare l'avvio del nuovo servizio.